Allora, benvenuti, bentornati anche. Ho visto che ci sono ben tre persone nuove, quindi volevo sapere di cosa vi occupate, se avete esperienza in questo settore, per avere un po' idea di cosa può esservi utile e cosa posso dirvi per eventuali attività che fate. Io mi occupo della gestione di laboratori di cucina, questo è il motivo per cui seguo questo corso. È un'associazione che si occupa di altri progetti, uno di questi sono i laboratori di cucina. Sicuramente questo incontro può servire a capire un attimo come gestire l'aspetto economico. Quindi è un'associazione non profit. Da tanti anni te ne occupi? Sono due anni. Io sono un biologo e il mese scorso abbiamo vinto un progetto come un gruppo informale all'interno di un laboratorio urbano e quindi volevo meglio acquisire informazioni sulla gestione delle risorse e eventuali possibili finanziamenti per proseguire in questo gioco. È finanziato quindi dal comune? No, la regione Puglia ha fornito questo tipo di finanziamento al laboratorio urbano di Fasano che ha cinque progetti a finanziamento. Ah, nello stesso gruppo state? Siamo concorrenti. No, se avete vinto tutti i due il bando non siete concorrenti. Loro eravate prima della presentazione. Il progetto dura in quanto tempo? Allora, il progetto scade a luglio ma noi l'abbiamo sviluppato dalla settimana scorsa fino a metà giugno. Cioè ancora in itinere? Sì, sì, sì. Noi l'abbiamo vinto due settimane fa, è stato pubblicato alla graduatoria. Quindi siete all'inizio delle attività. Finché l'abbiamo. Siete solo un partner? Noi siamo un gruppo informale di quattro persone. Quindi diciamo non c'è un grosso partenariato, siete quattro, tra virgolette, soci? Sì, però abbiamo sette partner che ci supportano nel progetto. Con fondi nel budget? No, danno strutture materiali. Nel senso che svilupperò un orto biologico e quindi un'azienda agricola mi fornirà le piccole piantine, un'azienda agribiologica mi fornirà, per dire, farine e confetture per il laboratorio di cucina. Ah, lo stesso gruppo. Il grafico mi darà una piccola parte di quelle che sono le brochure che svilupperemo come laborato finale. E anteciamente, quindi quando avete presentato il bando tra voi e questi, diciamo, soci di materiali, avete fatto un accordo, una convenzione? Cioè come vi siete accorta? Loro a titolo gratuito forniranno questi materiali. Cioè non vi siete, non avete scritto su carta quali erano i loro compiti? Nella documentazione che abbiamo presentato, nell'ultima pagina, una lettera di intenti, diciamo. Sì, una sorta di intenti, a fornire tot materiale corrispettivo di cifra tot. Ah, quindi diciamo una specie di apporto, diciamo. Sì, 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 ma non rientra nel preventivo di spesa. Non rientra nel ban. Ok, va bene. Ho sperato di riuscirci. E il tempo c'è, fino a lui. Quello sicuramente, però ci troviamo in difficoltà perché, se posso rendere presente un po' tutti quanti. A differenza delle altre associazioni che hanno vinto il progetto, noi come gruppo informale stiamo riscontrando una serie di difficoltà. Quali tipo? Una fra tutte potrebbe essere, non so, la copertura assicurativa. Perché un gruppo informale, avendo un referente, il referente non ha le stesse caratteristiche dell'associazione. Anche per l'apertura di un conto corrente. La stessa identica cosa per un conto corrente. Chi firma gli atti. Tutta una serie di situazioni di questo tipo. Perché anche se voi siete tutte e quattro sullo stesso livello, ci vuole il responsabile. Sì, sì. Però poi a livello burocratico, magari un'associazione ha una facilitazione nell'ambito proprio. Vabbè, sì. Voi avete stipulato una polizza fideiussoria per avere l'anticipazione? Il referente ha chiesto l'anticipo in base a quelli che erano le caratteristiche del bando. Probabilmente l'importo non era molto elevato. 3.000 euro. Quindi si immagina che in un gruppo o un'associazione sia un importo che viene. Quindi vi danno 3.000 euro all'inizio del progetto e poi procedete... il 60% è la prima tranche che danno appena l'associazione e il gruppo informale fa richiesta. Quindi diciamo tutte le richieste ci daranno il 60% dei 3.000 euro. E poi tutto il resto a fine del progetto. A faldo. Ok. Sì, diciamo che riscontrerete il problema anche di tipo... quando verranno dati i soldi, dove? Su che conto metterlo? Quello del referente. E questo referente, diciamo, tra virgolette, si assumerà in questo caso la responsabilità anche amministrativa e gestionale del progetto. Nonostante probabilmente sarà parificato a voi come... quindi avrà degli impegni maggiori. Almeno a livello... sì, amministrativo. E tu? Io sono una studentessa di lettere all'università e sono qui perché con alcuni amici si sta parlando di guardarci un po' intorno per dei progetti per, non so, cominciare a... abbiamo delle idee su delle attività che potremmo comunque intraprendere nel territorio. E quindi una delle voci più importanti da riempire è anche quella appunto delle spese. Insomma potrebbe essere un inizio questo cammino. Quindi non... ad oggi quindi diciamo ti stai approcciando, non hai avuto esperienze precedenti. Sì, esatto. Va bene. Io oggi vi parlerò del budget. A parte diciamo una premessa di carattere proprio discorsivo su che cosa sia il budget, parleremo poi con alcuni casi concreti che nella mia esperienza lavorativa ho riscontrato, sia eventualmente con progetti più semplici con un solo partner o con partenariati un po' più grandi. Vi chiedo in qualsiasi momento di interrompermi e di farmi le domande anche perché se voi avete proprio un problema tecnico, una specifica, riesco più a rispondere diciamo alle vostre esigenze. Il budget, ne abbiamo sentito penso tutti già parlare, è uno strumento uno strumento che evidenzia risultati economici e finanziari di un'azienda e gli obiettivi che l'azienda intende raggiungere. Quindi gli obiettivi di gestione da confrontare con quelli che saranno poi i risultati del nostro piano, progetto, perché non si fa un budget solo all'interno di un progetto finanziato, un budget viene fatto anche all'interno della vita aziendale e quindi diciamo qualsiasi azienda, sia piccola o media, ma anche un'azienda strutturata cerca di definire quelle che sono le sue priorità o le sue mete da raggiungere nei prossimi anni o comunque anche all'interno dell'anno prossimo e cerca di capire quali sono i mezzi per raggiungere questi obiettivi. Quindi all'interno diciamo dell'attuazione dei piani e dei programmi aziendali bisognerà attraverso il budget, che è uno strumento di controllo, perché sia in fase preventiva uno strumento di programmazione, ma in un secondo momento diventa uno strumento di controllo rispetto a quello che noi c'eravamo profissati nel momento in cui abbiamo scritto un progetto e in cui abbiamo quindi scritto un budget e abbiamo ipotizzato di sostenere quelle spese. Se poi a distanza anche di un mese ci accorgiamo che ci sono stati degli scostamenti, quindi il budget ci dà un'idea di quelli che sono, non i nostri sbaldi, perché può darsi pure che ci stiamo orientando nella decisione anche più giusta, però degli scostamenti di quello che avevamo deciso prima e quindi eventualmente anche la disponibilità finanziaria per realizzarli. Quali sono le caratteristiche? Quindi lo scopo del budget è quello di un controllo della gestione e non serve come strumento per sanzionare eventuali comportamenti difformi, ma soltanto un mezzo per raggiungere degli obiettivi. Il sistema di budget dovrebbe essere interrelato con altri rami aziendali che sono quelli della valutazione del personale, perché se io ho attraverso il budget stabilito delle funzioni, ad esempio nel nostro caso nelle macro-arie o degli step di progetto in cui ci sono dei responsabili, riesco anche in questo caso a capire chi si sta discostando dall'attività di carattere generale. E quindi il sistema di controllo è connesso a quello che sarebbe il sistema di pianificazione. Infatti molto spesso quando si parla di budget si parla di sistema di pianificazione e controllo aziendale. Non è uno strumento molto antico, cioè diciamo che negli ultimi anni si sente molto più parlare di budget, perché prima veniva lasciato diciamo alla libera interpretazione degli imprenditori. Il sistema di controllo quindi normalmente è progettato e gestito da un organo che si ne occupa, che è posto al vertice aziendale. Nel nostro caso il responsabile di progetto è il project manager che stabilisce il budget e stabilisce quindi i compiti da dare o all'interno del partenariato chi fa che cosa. E quindi la persona diciamo che in una fase successiva provvederà all'eventuale verifica e controllo viene appunto definita controller. Però non vedetele in un'accezione negativa di controllore o di persona che deve sgridare, ma soltanto appunto di un controllo di carattere generale. Dove si colloca il budget? Il budget quindi viene collocato subito dopo quella che è la strategia aziendale o la strategia intesa come obiettivo o mezzo che noi vogliamo raggiungere con il progetto con la call a cui abbiamo presentato dopo i piani di azione che sono quelli che identificano quindi le linee guida o il business dell'azienda o della persona e poi si pone il budget. Quindi la programmazione è un fondamentale momento di verifica e ripensamento delle scelte. Se voi avete scritto un business plan o un budget e in un secondo momento vi rendete conto che questo non risponde più alle vostre caratteristiche o alle vostre esigenze aziendali o di progetto avete la capacità e la possibilità di modificarlo modificarlo perché avendo voi un'idea di quali sono i vostri piani e i fondi per realizzarlo lo potete fare e avendo tutto schematizzato e tutto con i numeri a portata di mano potete anche effettuare delle modifiche anche all'interno di progetti piccoli queste modifiche possono essere effettuate perché le linee guida sono non modificare il budget cioè non modificare l'importo del finanziamento che quello non può essere modificato e gli obiettivi che vi siete prefissati che possono anche in percentuali essere inferiori ma se ci sono stati degli eventi che hanno portato altrimenti bisognerà raggiungere gli obiettivi con quei fondi poi eventualmente come li avete spesi dove li avete impiegati possono esserci degli scostamenti facilmente facili quindi i tre aspetti del budget il budget viene considerato quindi una strategia per definire un percorso bisogna quindi conoscere la meta e il documento le premesse del budget quindi si parla di programmazione quindi bisogna programmare quello che vorremmo fare non in senso di previsione cioè noi non possiamo prevedere come sarà il mercato cosa succederà quindi dobbiamo soltanto effettuare una programmazione con quelli che sono le nostre esigenze quindi si parla di un ruolo attivo del budget come una volontà di intraprendere quella scelta quella decisione quella spesa infatti se noi lo considerassimo come passivo dovremmo soltanto dire se accade questo se succede questo e la misurazione degli obiettivi attraverso il budget quando noi stabiliamo dei percorsi intermedi degli step riusciamo quindi in questo modo a misurare se stiamo andando nella giusta direzione ci stiamo scostando quindi si parla comunque di un ambiente competitivo e dinamico perché ovviamente non siamo fermi e un'importanza strategica e anche di controllo quindi in questo senso a coprire diciamo eventuali se siamo troppo alti e poi diciamo non utilizziamo tutto il budget significa che non siamo stati effettivamente concreti nella nostra valutazione perché abbiamo detto che spendevamo 10.000 euro di costi del personale e poi non vi è la necessità di utilizzarne 10 diciamo ci siamo discostati di troppo e quindi il nostro vuol dire che non era stato un attento analisi preventiva quindi il budget è una strategia una strategia di insieme quindi quando come diceva Lewis erano in quattro si sono uniti insieme per realizzarlo nella loro analisi preventiva hanno quindi considerato quelli che sono i punti di forza i punti di debolezza della loro idea la così dell'analisi SWOT che ha considerato un'analisi interna di quali potevano essere le loro capacità le loro attitudini quelli che erano i loro studi quindi quello che poteva dare forza alla loro idea imprenditoriale o la loro idea di progetto e poi hanno considerato quale poteva essere un punto di debolezza la concorrenza della tua idea rispetto alla loro o il mercato o la loro difficoltà a reperire le piantine quindi una visione non solo come loro capacità di ideare il progetto che poteva anche essere il miglior progetto scritto però bisognava considerare il contesto dinamico in cui loro si sono interfacciati o anche gli altri progetti che sono stati presentati nella stessa call quindi al completamento diciamo di questa analisi hanno stilato quello che poteva essere un primo budget che ovviamente a volte ci fermiamo a una prima stesura a volte può anche essere rimodellato a seconda di quelle che sono poi le reali condizioni di mercato o le reali esigenze di progetto perché quello che noi sappiamo nel momento in cui scriviamo un progetto può in corso d'opera subire delle modificazioni le piantine che ti hanno detto che ti davano non te le danno più e tu devi trovare allo stesso prezzo la stessa piantina nello stesso cioè nel tempo di progetto quindi nella definizione di budget prendiamo in considerazione gli obiettivi che ci siamo prefissi e le azioni che noi vogliamo intraprendere quindi in una prospettiva diciamo guardando il futuro però in base alle nostre condizioni presenti quindi analisi degli aspetti interni e degli aspetti esterni quindi come dicevo prima in punti di forza o anche eventualmente le minacce e le opportunità quindi quelle che sono esterne al mercato quale potrebbe essere la concorrenza invece i punti di forza interni dell'azienda potrebbe essere l'idea ci potrebbe essere anche un problema diciamo di scelta del personale o di problemi di carattere proprio legati a carenza di disponibilità finanziaria e quindi dei punti di debolezza interni della struttura invece le opportunità potrebbe essere appunto partecipare a un bando pubblico e quindi entrare in questa idea solitamente il budget ha un'estensione temporale che dura un anno però questo parliamo di budget ovviamente aziendali poi il budget di progetto dura la durata del progetto i progetti possono avere anche durata di tre o cinque anni o anche di sei mesi quindi però diciamo in una linea generale ha una durata temporale di un anno e dovrebbe essere approvato solitamente entro il 30 di novembre questa è una caratteristica però diciamo di carattere aziendale all'interno del progetto quando viene presentato il bando cioè quando viene presentato il progetto viene approvato il bando e per esigenze anche interne ci possono anche essere dei budget di periodi più corti che servono appunto quando la complessità aziendale è così diciamo ci sono diverse attività e diverse lanci di nuove iniziative che prevedono dei budget più core cioè più legati a periodi più piccoli quali potrebbero essere un semestre un trimestre a seconda delle si riferisce quindi alla intera struttura aziendale quindi potrebbe essere organizzato sia per funzioni che per aree produttive e esprime un comportamento globale dell'azienda quindi abbiamo detto che ha un'articolazione temporale e una espressione quantitativa monetaria questo potrebbe essere un limite del budget perché dovendo dare a ogni dato un numero e quindi doverlo quantificare a livello economico ci sono dei valori che sappiamo bene che non possono essere attribuiti o l'attività come dicevate voi ieri di volontariato tu la puoi anche utilizzare all'interno di un progetto però non ti viene riconosciuta e quindi dovresti inserirla o non inserirla anche se dà valore aggiunto quindi anche l'utilizzo di una sede propria un cofinanziamento potrebbe essere considerato un un limite diciamo questa espressione quantitativa matematica infatti dei limiti potrebbero essere l'espressione quantitativa monetaria infatti sfugge al budget quelli che sono gli obiettivi esprimibili non contabilmente o anche il fatto che sia limitato ad un periodo di tempo quindi una dimensione temporale di riferimento cosa si può fare con il budget bisogna quindi quantificare fa bisogno di camitale si possono fare delle simulazioni bisogna quindi identificare quello che è il valore che noi vogliamo tenere sotto controllo in questo caso il budget di progetto e quindi teniamo sotto controllo per evitare sforamenti bisogna anche potrebbe essere utilizzato per verificare l'impatto del risultato sulla gestione aziendale o anche per mantenere sotto controllo i responsabili e quindi sia a livello diciamo di responsabilità delle varie funzioni o dei vari impiegati o diciamo collaboratori o anche per mantenere sotto controllo i prodotti e le attività che noi vogliamo realizzare il budget va inteso quindi come uno strumento per la gestione della operatività e il suo contesto quindi va inquadrato come all'interno diciamo di un bilanciamento cioè efficacia efficienza obiettivi di medio obiettivi di lungo periodo anche perché quando noi compiliamo un budget di progetto cerchiamo ovviamente di tutte le attività devono essere racchiuse in quello che è l'orizzonte temporale che noi possiamo svolgere le attività se il progetto dura sei mesi in questi sei mesi però molte volte le ricadute del progetto anche a livello della cittadinanza se noi facciamo qualche attività diciamo legata al sociale o non le vediamo subito le vediamo dopo perché diciamo i risultati positivi possono anche essere raggiunti successivamente alla data di e quindi quel valore positivo che noi abbiamo apportato non viene inserito in un budget cioè tu lo puoi non lo puoi quantificare o anche e quindi un'efficacia che potrebbe anche essere indirizzata nel medio lungo periodo però noi al momento non lo riusciamo a vedere nel momento in cui noi stiamo scrivendo un progetto quindi ci sono diverse persone che diverse con diverse responsabilità che cercano a seconda dell'idea progettuale di coordinarla e di dargli dei valori molto spesso si tende a parlare di spese del personale per tra virgolette pagare l'attività del progettista di noi che ci stiamo lavorando però bisogna anche considerare le spese vive e quindi a seconda dell'attività identificare spese di carattere generale e spostamenti o proprio materie prime reali tutto questo ovviamente cercando di rispettare sempre le condizioni complessive di efficienza e di efficacia del progetto dobbiamo porsi il problema di realizzarlo molto spesso perché è richiesto quindi oltre alla domanda e l'idea progettuale bisogna accompagnarvi in un format economico a volte nelle domande progettuali viene allegato e voi dovete soltanto compilarlo altre volte bisogna crearlo ex novo in base alla vostra idea quindi serve per simulare i programmi di gestione per analizzare le prestazioni aziendali e per aiutare gli individui e i reparti dell'azienda vi volevo anche considerare che costituisce quindi una diciamo un mezzo con cui le risorse aziendali vengono utilizzate per l'impiego del personale per la negoziazione delle risorse o anche per comunicare all'esterno ad esempio molto spesso un budget o una specie di bilancio di previsione diciamo che poi alla fine è molto simile viene anche richiesto da quando tu proponi un'idea imprenditoriale a chiunque o anche in banca per ottenere un finanziamento ti chiedono che cosa vuoi fare cioè la tua idea a livello economico come deve essere sopportata e quindi budget anche nel senso di bilancio di previsione in modo che l'idea è anche economicamente riconducibile a numeri e quindi diciamo essere più facilmente letta in maniera oggettiva dal controllo o dalla banca o dal dall'ente perché una mentre l'idea può essere diciamo può piacere e non piacere i numeri parlano da sé e quindi l'eventuale vantaggio derivante da un budget che porta a risultati positivi quindi diciamo viene considerato un mezzo di comunicazione che ha il vantaggio di essere proprio per il limite di essere espresso in moneta o comunque in numeri è facilmente letto ci possono essere diversi tipi di budget un budget quindi economico che considera proprio quelle che sono le vendita la commercializzazione un budget diciamo sugli investimenti e un budget quindi finanziario che considera più che altro la liquidità aziendale io vi volevo far quindi anche considerare quelli che sono dove va a impattare il budget cioè mentre per quanto riguarda le relazioni del budget vi è un quindi coloro che lo scrivono uno staff di coordinamento e un calendario perché molto spesso come dicevamo anche ieri quando si scrive un budget bisogna accompagnarlo da un cronoprogramma o un diagramma di Kant chiamatelo come volete nel senso bisognerà all'interno se noi abbiamo un progetto che si struttura su più anni e le attività sono divise per anno sarebbe opportuno per ogni anno stabilire in un orizzonte temporale mensile le varie attività in che mese vengono effettuate e quindi in questo modo se noi a fine maggio ci accorgiamo che le attività dei primi sei mesi non sono state realizzate bisogna diciamo considerare che le altre cioè le attività che erano previste in un anno alla fine poi andranno fatte negli ultimi sei mesi e quindi potremmo non essere nelle condizioni di farle quindi in questo caso come uno strumento anche di indirizzare nella giusta direzione cioè considerare anche sì di controllo a seconda anche della tempistica perché la cosa diciamo che in tutti i progetti è essenziale è fare le attività nei tempi previsti quindi in un progetto di sei mesi se le attività tu le ricordi l'ultimo mese anche concretamente non le riesci a realizzare oppunque anche se le realizzi come fai a rendi contare il personale che dovevi rendi contare in sei mesi lo rendi conti in un mese cioè le ore uomo in un mese quelle sono non è che lo puoi rendi contare dieci ore al giorno non ti verrebbe tagliata come spesa quindi anche il fatto di effettuare i pagamenti devono essere almeno quelli del personale perché poi tu puoi anche farti fare la fattura all'inizio del progetto e poi la paghi dopo due mesi ci sta perché tanto all'interno dell'orizzonte temporale tu puoi rendi contare qualsiasi cosa ovviamente di preventiva però se tu ti fai la fattura l'ultimo giorno e la paghi il giorno dopo quella spesa non ti viene riconosciuta perché è stata pagata dopo l'orizzonte temporale anche se la fattura è antecedente la data di pagamento di qualsiasi documento deve essere all'interno del periodo progettuale e questo è importante specie nelle piccole associazioni che molto spesso non hanno la disponibilità finanziaria di fare anticipazioni quindi per questo è importante effettuare un budget e sapere anche quando devi fare la spesa per farti un po' i conti in tasca per vedere se la faccio altrimenti bisogna trovare delle soluzioni prima altrimenti ti trovi poi l'ultimo giorno che devi sostenere tutte le spese finali e non ce la fai sia nella piccola ma diciamo anche in una realtà un po' più grande e applicazione del budget quindi che coinvolge le persone coinvolte le azioni che bisogna fare e i risultati io non so se voi quando ne avete fatti tanti o ne avete fatti vi siete poi trovati degli scostamenti da quanto avevate previsto cioè oltre diciamo alla tua esperienza ieri dei costi telefonici se voi avevate avuto lo stesso riscontro da quando avete scritto il progetto ad oggi se vi sono state delle modifiche ancora non vuol dire che diciamo la tempistica era stata prevista bene perché molto spesso da quando uno scrive il progetto a quando viene approvato a quando inizia è passato così tanto tempo anche se a volte sono celeri a seconda della a che domanda stai partecipando quindi non quindi è uno uno strumento di analisi per analizzare quindi le azioni aziendali non è solo per i manager per il tanto che i manager sono quelli che manager intesi come responsabili di progetto project manager focalizza quindi l'intenzione su quelli che sono gli aspetti il controllo dei dati e l'analisi degli scostamenti eventualmente i punti di forza e di debolezza e può consentire anche la retroazione e la correzione della strategia se noi appunto ci siamo prefissati una determinata obiettivo e poi vediamo che questo obiettivo non è più utile tipo all'interno di percorsi diciamo turistici che ovviamente ci sono dei bandi sul turismo se noi prevediamo nel nostro progetto di fare un percorso ciclo ciclo turistico all'interno di un territorio e poi vediamo che lo stesso comune o qualche altro ente è fatto sullo stesso territorio la stessa cosa è inutile continuare nella nostra idea e fare la stessa attività quindi in corso d'opera la nostra strategia di progetto può subire una variazione e possiamo modificare il budget perché altrimenti poi alla fine ci troveremo a fare due persone la stessa cosa e noi potremmo invece inserire diciamo un'alternativa alla ciclo passeggiata e facciamo qualcosa di alternativo quindi in questo modo si parla di previsione perché quello che noi abbiamo deciso può anche essere modificato può essere sostituito può essere integrato quindi non lo considerate come un aspetto una cosa statica ma può essere modificato ed è importante anche riuscirlo a capire in tempo infatti diciamo nel momento in cui noi abbiamo presentato il budget come vedevamo ieri e sarebbe sempre opportuno in qualsiasi aspetta che lo richiamo anche per le persone che ieri non c'erano sarebbe sempre opportuno tenere in vista quello che il bilancio preventivo approvato quello pagato e la spesa in modo che noi avremo la differenza e potremmo eventualmente effettuare delle sostituzioni o delle rettifiche anche perché in tutti i progetti in questa cosa possono esserne diciamo scostamenti tra la voce A2 o la voce A4 cioè all'interno della voce A sono ammessi l'importante è che si tratta di scostamenti inferiori al 5% o 10% a seconda di budget quindi questa modifica se noi avevamo previsto che i collaboratori erano esterni e poi facciamo un contratto di collaborazione interno posso fare queste sostituzioni diverso invece effettuare una sostituzione tra una voce A e una voce B perché in questo caso si parla di macrovoci differenti o comunque se noi non avevamo previsto nulla nella voce B è difficile poi inserirla perché sarebbe una spesa proprio che non avevamo preventivato quindi in questo senso voi dovete tenere in considerazione questo o anche per l'attrezzatura noi ieri parlavamo del fatto che a volte può capitare che nel momento in cui noi stiliamo il budget dei beni cambiano un certo valore e successivamente invece i beni per la tecnologia o per il mercato vengono a subire un depreciamento quindi quell'economia in più che noi abbiamo ottenuto nell'acquisto del software del computer la possiamo utilizzare per un'altra attrezzatura che in quel momento ci sembra utile per la realizzazione del progetto e diciamo che difficile invece sarebbe se noi abbiamo presentato un progetto per la realizzazione di dieci seminari e poi ne facciamo uno e uno ci ricarichiamo tutto il costo dei dieci seminari invece sarebbe più diciamo ben visto che al posto di farne due di seminari noi ne facciamo tre perché il numero di persone è stato così importante che abbiamo bisogno di fare un altro seminario in quel caso quei soldi di budget per quel seminario li potete trovare all'interno perché comunque state svolgendo un'attività che ha avuto un seguito quindi non lo considerate come qualcosa di strettamente rigido c'è domande tranquillo quindi il budget viene anche considerato per organizzare il personale perché consente quindi la misurazione di quelle che sono le performance del singolo impiegato del singolo dipendente quando il dipendente viene messo sotto diciamo all'interno del budget ci sono degli obiettivi questo serve anche per eventualmente per incentivarlo a raggiungere gli obiettivi previsti molto spesso infatti nelle grandi aziende o nelle grandi realtà quelli che sono obiettivi di risultato vengono anche premiati a livello economico in busta paga quindi crea un sistema incentivante infatti si parla proprio di organizzazione del personale in relazione al controllo budgettario o di progetto e in questo caso quindi anche i singoli dipendenti collaboratori sono orientati a seguire quelli che sono gli obiettivi che gli sono stati attribuiti in fase iniziale la fase del processo del controllo di gestione si svolge secondo un ciclo normalmente annuale e prevede un controllo antecedente che viene quindi chiamato di budget un controllo in corso d'opera un controllo successivo il controllo antecedente quindi come abbiamo detto anche prima riguarda la pianificazione la predisposizione di un budget attraverso quelli che sono gli obiettivi operativi cioè vengono misurati con definizione degli indicatori del target o del traguardo quindi questo in relazione a che mercato diciamo rapportandoci ad un'azienda a che mercato vogliamo raggiungere quali sono i nostri target di consumatori quindi in un senso che cosa diciamo lanciando questo nuovo prodotto vogliamo fare e quindi in questo senso vengono misurati con degli indicatori vengono anche correlati alla previsione delle risorse perché nel momento in cui qualsiasi scelta aziendale deve essere analizzata con quelle che sono le risorse disponibili è misurata in termini quindi di costo perché parlando di numeri e parlando di aziende comunque il fine ultimo è quello di rimanere sul mercato il sistema di controllo di gestione si viene a interrelarsi con quello che è un sistema di pianificazione di lungo periodo di breve periodo e con un sistema di valutazione del personale che viene quindi ad essere incentivato a svolgere quelle attività quindi si parla di un'interrelazione sia con un sistema di contabilità che con un sistema informativo volevo quindi adesso parlarvi proprio di quello che è più accentrato rispetto al budget di progetto quindi ogni progetto deve possedere una sua sostenibilità economica quindi deve riuscire con i fondi ottenuti alla realizzazione degli obiettivi sia una sostenibilità economica e soprattutto un orizzonte temporale di riferimento perché noi potremmo anche raggiungerli dopo ma non serve più a nessuno quindi dobbiamo definire quelle che sono le entrate e le uscite in termini economici in termini monetari e in termini per la sua attività un budget di progetto deve essere coerente con le attività che ci siamo prefissate e deve utilizzare la logica del minimo mezzo con il massimo risultato perché come vi ho anche spiegato ieri quando due progetti raggiungono lo stesso risultato in sede di decisione a quale dei due dare i fondi verrà scelto quello che ha utilizzato meno fondi ma questo risponde a una logica più generale quando ad esempio c'è un bando comunale o un bando regionale e i fondi disponibili per quel progetto sono ad esempio 10.000 euro il comune non terrà a dare il progetto al soggetto proponente che ha presentato un solo progetto con un budget di 10.000 euro perché in quel caso c'è solo una persona che lavora su quella misura quindi tenderà a dare invece a 10 soggetti proponenti 1.000 euro non perché vuole ottenere buone più persone ma perché ci saranno più probabilità che le azioni intraprese da questi 10 soggetti raggiungeranno quello che è l'obiettivo che il comune o la regione si è prefissata anche l'idea dei progetti a cui avete partecipato voi di bollenti spirici principi attivi cioè il budget di 25.000 euro era poteva essere considerato basso però in quel caso hanno dato più possibilità a più giovani di accedervi altrimenti se fissavano un budget di 50.000 euro la metà di quelle persone non poteva partecipare quindi quando noi presentiamo un progetto bisognerà anche considerare quello che è il budget cioè quando dice il progetto 30.000 euro utilizzate noi facciamo un budget ovviamente sui 30.000 euro però se noi presentiamo un budget più alto non viene considerata una bella cioè in maniera positiva dal soggetto che sta a verificare i nostri progetti quindi dobbiamo comunque cercare di mantenerci su quelle che sono i loro indicatori quindi anche l'idea anche perché poi comunque cioè è diverso se il progetto prevede 50.000 euro di budget complessivo finanziamento di 25.000 euro massimo se noi presentiamo un progetto tipo di 55.000 euro ok tanto comunque loro ce ne daranno 25 però vuol dire che voi vi siete impegnati tra virgolette a fare più attività e viene potrebbe essere considerato diciamo un elemento diciamo positivo perché il budget è definito dal finanziamento regionale è stabilito quindi il minimo mezzo e massimo risultato e quindi nella capacità di massimizzare il risultato in termini di economicità di costi quindi non infatti risparmiare un costo potrebbe essere considerato penalizzante perché vuol dire che non l'avete previsto al meglio però non è così perché alla fine l'economia è diverso se il progetto è di 30.000 euro quindi l'ente si è impegnato a darvi 30.000 euro e voi ne consumate 5 perché in quel caso prima di tutto non avete raggiunto gli obiettivi prefissati e quindi comunque il progetto anche su quei 5.000 euro possono non esservi riconosciuti quindi potrebbe esserci una revoca di progetto in questo caso dovete anche restituire eventuali anticipazioni che vi sono state erogate molto spesso capita quando ci sono dei progetti con più partner che hanno il finanziamento e poi i partner non si mettono d'accordo e quindi in quel caso è difficile stabilire chi deve fare cosa dimmi stavi pensando fai cosa si intende per economicità cioè nel senso se il il bando prevede appunto un finanziamento di 10.000 euro e io intendo fare 4 azioni 4 convegni e quindi tra costo di personale eccetera eccetera faccio un budget finale e arrivo ai 10.000 euro l'economicità sta nel fatto che io riesco a fare più attività e consumare tutti i 10.000 euro oppure a chiederne 9.500 no devi comunque utilizzare 10.000 euro anche perché se l'ente che ti ha erogato il finanziamento ha impegnato quei soldi per il tuo per la tua ente si troverà poi in difficoltà per quei 500 euro perché poi con la programmazione non si cioè risulterà un non speso quindi diciamo il premio rispetto a questa economicità sta nel fatto che se io ho pensato a 4 azioni coerenti ovviamente col progetto ne puoi fare tipo 5 e lui invece ne ha fatte 5 allora è lui che diciamo viene premiato perché lui ne ha pensate 5 e non 4 diciamo all'interno dello stesso obiettivo che vi siete prefissati lui riesce a raggiungere più province perché ha fatto un convegno ce ne ha fatti 5 e tu ne hai fatti 4 in questo senso quindi chi ti deve finanziare il progetto dirà vabbè ma lui riesce a raggiungere Taranto Brindisi invece tu rimani non risparmiare sul budget no se il budget prevede 30.000 10.000 euro voi dovete fare un budget di progetto che raggiunge 30.000 euro al massimo lui supera se avete ovviamente la disponibilità finanziaria di poterlo superare diciamo che spesso quando si tratta di di questi progetti diciamo e l'ente che lo presenta è strutturato e ha ad esempio due o tre persone assunte o quella differenza in più che potrebbe fare un budget diciamo di 35.000 euro molto spesso corrisponde al costo del personale che comunque lui sostiene che però lo inserisce nel progetto ed è un vantaggio perché alla fine al posto di avere collaboratori esterni che tu li devi pagare al 100% sul progetto in questo caso ce li hai già pagati quindi diciamo che restituire i soldi non viene visto cioè non va bene nel senso sia perché diciamo vuol dire che non hai raggiunto tutti gli obiettivi che ti eri prefissata perché se tu se tu mi hai detto che facevi quattro interventi e spendevi 10.000 euro e poi ne hai fatti quattro e ne spendi 8.000 c'è qualche problema cioè un'altra azione diverso se tu invece a posto di farne quattro alla fine per problemi tecnici ne fai tre e quindi restituisci 2.000 euro ci può stare però devi comunque specificare perché non hai raggiunto cioè che quell'evento che tu non hai fatto non ha inficiato il progetto se no diciamo non viene visto anche perché i controlli sono abbastanza rigidi c'è una domanda allora all'interno di un progetto ci sono ovviamente le risorse umane interne e esterne se le risorse umane interne decidono a chiusura del progetto di reinvestire i loro compensi dimmi se è sbagliato di reinvestire i loro compensi sul progetto su una nuova attività o sulla stessa attività per proseguirla nel tempo eccetera eccetera quello può essere un elemento di premialità in fase di perché tu lo scrivi già nel progetto quando lo presenti senti ci sono dei bandi che molto spesso riguardano l'occupazione che prevedono questa premialità quando tu dicendi di aprire un'attività e ti impegni ad assumere qualcuno e tenerlo in vigia tenerlo assunto per un periodo di cinque anni tre anni in cui non lo puoi licenziare e quindi in quel caso è un elemento di premialità dire io il mio stipendio lo reinvesto però quei bandi tipo i loro che riguardano delle attività specifiche loro comunque nella fase iniziale può essere un elemento di premialità nel momento in cui loro scelgono il suo progetto al posto di quell'altro ma tanto i fondi disponibili quelli sono quindi se le devono dare 10.000 euro non è perché investano il capitale e le danno 11 capito invece ci sono dei bandi in cui prevedono tipo quando si aprono determinate attività economiche o anche attività per anziani o le attività che se tu dici il progetto dice io rimango devi rimanere aperto per i prossimi cinque anni se tu nel tuo piano prevedi io voglio cioè mi impegno a rimanere aperto per i prossimi otto ad esempio quando si allega la documentazione hai fatto un contratto di fitto l'hai fatto di otto anni quindi vuol dire che sei più lungimirante perché ad esempio quando ci sono determinati bandi è il bando che ti obbliga a tenere il fitto per cinque anni o per dieci anni quindi quando tu alleghi la domanda di fitto non può essere di cinque anni se il bando la prevede di otto quindi ti trovi anche nel momento in cui tu hai già un contratto di fitto e poi accedi ad un bando a dover modificare il contratto che ha scadenza ogni quattro anni no la devi fare a scadenza otto perché sennò la regione non lo accetta quel contratto di fitto quindi dipende molto dalle azioni che hanno però se il bando prevede una voce che riguarda la sostenibilità futura del progetto quello può essere una premialità può essere una premialità sì sì come un'esperienza positiva e quindi nella valutazione del punteggio che viene attribuito al tuo progetto verrà considerato se definito come premialità perché la molto spesso definiscono se ci sono donne se hai meno di 40 anni o se hai a che fare con la popolazione disabile ce ne sono dei punteggi se c'è sicuramente lo sai cosa sarebbe importante in quel caso questa tua idea descriverla dettagliatamente nell'idea progettuale così quando uno legge il progetto ha un'idea di quello che è la tua lungimiranza futura e poi sarà a loro valutarlo infatti diciamo la descrizione progettuale mi sembrerà diciamo ma è importante perché da lì loro hanno un'idea di quali sono i vostri obiettivi e di cosa volete ottenere con quei fondi poi c'è il budget però l'idea progettuale è una buona idea riesce a sopportare un buon budget se tu invece hai un budget fatto benissimo però l'idea capito fa acqua e invece l'idea c'è anche perché poi fare un buon budget è solo una questione di sapere avere a che fare con i numeri avere un'idea di quelli che sono i costi di mercato infatti l'utilizzo di internet quando voi dovete stabilire quanto costa l'attrezzatura quanto è essenziale basta fare una piccola ricerca e voi avete l'idea di quanto costa un'attrezzatura anche specifica sulla botanica e qualcosa di questo tipo e mettere un prezzo che più vicino sia possa avvicinare i costi del personale comunque basta andare da un consulente invece l'idea progettuale diciamo i bravi progettisti si fanno pagare perché l'idea progettuale è quella vincente cioè che tra tanti progetti che arrivano un'idea innovativa particolare viene sicuramente ricordata di più può anche succedere a volte in alcuni bandi quando si fanno delle richieste cioè call pubbliche che vengono presentati diversi progetti per la stessa misura a volte pur di far mettere due progetti che vi chiedono una rimodulazione del budget quindi una rimodulazione che a volte effettua l'ente che sta erogando il finanziamento in maniera verticale cioè abbatte tutti i costi del 10% del 5% altre volte vi chiedo a voi di rimodularlo e quindi quando solitamente voi avete la richiesta di una rimodulazione di progetto vuol dire che già il vostro progetto sta a buon punto perché gli piace soltanto che avete fatto un budget che non o troppo elevato perché mentre questi bandi a cui partecipate voi sono solitamente 20 10 5.000 euro il budget massimo a volte quando si partecipa a call europee come l'Interreg lì tu non hai cioè hai degli importi tipo 500.000 euro un milione di euro di progetto perché coinvolgono 5 partner 5 nazioni diverse quindi in quel caso il progetto potrebbe avere un importo molto elevato voi lo presentate su fai finta 600.000 euro poi vi possono chiedere una rimodulazione vuol dire che il progetto piace soltanto che i fondi non sono disponibili e quindi voi abbassate il budget anche diminuendo eventualmente le azioni quindi in quel caso è un aspetto positivo sicuramente non negativo il budget che noi presentiamo deve essere dettagliato molto spesso all'interno della call quindi della domanda di progetto sono previsti una serie di documenti dove bisogna compilare a volte anche il budget è previsto già in formato Excel e voi dovete soltanto mettere i valori questo succede quando i progetti hanno già delle spese stabilite quindi potete spendere o costi del personale o attrezzature o spese generali punto e quindi vi fanno già loro il prestampato altre volte invece vi è una maggiore flessibilità ovviamente uno non può prendere in considerazione tutti quelli che sono i finanziamenti pubblici che ci sono quindi nel momento in cui voi avete qualche bisogna vedere il bando che cosa e produrre quindi un budget il più dettagliato possibile e in questo modo come dicevo prima è utile anche ricorrere ai prezzi che possiamo copiare o comunque vedere sul web anche per le polizze fidegiussori e fare una richiesta preventiva eventuali assicurazioni che è importante diciamo come dicevo prima il budget di progetto deve essere a zero cioè alla fine del progetto il totale delle entrate con il totale delle uscite deve essere uguale compreso di cofinanziamento cofinanziamento che come dicevamo può essere il cofinanziamento è quella parte lo spiegavo alla ragazza che ieri non c'era che molto spesso l'ente che ti propone che fa il bando che scrive il bando richiede ai soggetti che partecipano per motivare cioè per dimostrare la loro convinzione nel progetto quindi se è un progetto di 10.000 euro ci può essere un cofinanziamento del 20% quindi tu ente che puoi partecipare al bando devi mettere di tasca tua 2.000 euro che possono essere o in natura e dici io metto la sede e quindi l'affitto di questa sede lo metto nel progetto oppure attraverso personale quindi costi questi costi vivi quindi il finanziamento o comunque il progetto non deve produrre profitto una cosa importante che a noi diciamo può sembrare banale è anche il fatto che il budget deve essere scritto in euro perché quando si partecipa a bandi europei in tutti gli stati è stato adottato l'euro però l'euro viene considerato come la moneta di riferimento quindi chi vuole partecipare o anche se noi facciamo dei partenariati con altri stati bisogna comunque segnare e anche i formulari sono tutti in inglese anche se partecipiamo a bandi dell'unione europea anche il progetto deve essere scritto in inglese non può essere scritto in italiano in questo senso però diciamo questi sono progetti un pochino più articolati il budget quindi si divide in due macro categorie quindi macro parti diciamo una parte dove ci sono i costi diretti che sono quindi quelli strettamente connessi con il progetto e sono quindi i costi del personale i costi per le trasferte o per le attrezzature e una parte invece e questi vanno quindi tutti i rendi contati bisogna dimostrare il pagamento come dicevamo ieri tutto deve essere allegato da documento speso pagamento per forza rintracciabile quindi o bonifico o assegno non sono accettati i pagamenti in contanti salvo per importi inferiori a 500 euro e poi deve essere allegato l'estratto conto questo segnate però come non c'è nessuna possibilità di non presentare questi questi documenti e ormai sono anche esclusi la possibilità di presentare degli importi forfettari salvo sempre determinate caratteristiche il budget poi comprende anche quei costi indiretti quei costi quindi che non sono direttamente imputabili al progetto ma che possono essere riconducibili e ad esempio all'interno di un ufficio quella che può essere le utenze elettriche le fotocopie la cancelleria come fai a attribuire se li è utilizzati esclusivamente nel progetto quindi si calcoleranno dei coefficienti ad esempio quante persone lavorano su quel progetto quanto dura il progetto quindi la cancelleria dovrà essere giustificata da cinque impiegati che lavorano cioè non si possono anche perché non sono ammessi acquisti per magazzino e quindi eventualmente la cancelleria non può rimanere in vostro possesso alla fine ovviamente anche in questo caso molto spesso questi costi proprio perché sono ci potrebbe essere una maggiore facilità di situazioni non controllabili da parte del fondo o dell'ente c'è scritta una percentuale tipo le spese generali le spese indirette non possono superare il 5% del budget di progetto altrimenti noi poi qui solitamente se uno ci va a mettere tutte quelle voci che non sa dove mettere o comunque fanno volume può essere comodo e quindi mettiamo la pulizia del locale le utenze cose che però bisogna sempre rispettare queste percentuali anche perché i costi indiretti vengono quindi solitamente dichiarati dal rappresentante legale e non possono comunque eccedere i costi generali che sostiene l'azienda anche perché sarebbe difficile giustificare che per un progetto spegniamo più di costi indiretti che di costi diretti viene considerato come uno escamotage quindi sono abbastanza rigidi su questa cosa infatti mentre i costi diretti non comprendono le spese forfettarie e sono prevedibili e sono da rendi contare i costi indiretti molto spesso sono difficili da rendi contare o comunque soltanto in una piccola parte anche nelle utenze telefoniche devi stabilire ad esempio che l'utilizzo del telefono per chiamare attualmente molto spesso il telefono viene sostituito dalle mailing list dal servizio di email e quindi se hai presenti bollette molto elevate devi giustificare perché le stai utilizzando che cosa hai fatto con il telefono diverso se hai partner sparsi in altre tutto bisogna sempre trovare una spiegazione il più possibile oggettiva e logica all'eventuale aumento di spese in questo in questo caso quindi quando costruiamo il nostro budget di progetto bisogna considerare quelli che sono i costi ammissibili quindi ci andiamo a leggere il bando molto spesso io vi ho portato poi un esempio di bando che attualmente operativo in queste zone e in base a quelli che sono i costi che l'ente ti riconosce dobbiamo cercare di creare un budget il più possibile in linea e oltre nel momento in cui l'ente pubblico scrive il bando solitamente allega anche delle linee guida che tu ieri dicevi che non avevi trovato ah il bando del pio abbiamo partecipato a un bando ma è un privato che ha concesso il finanziamento per un progetto a un'altra associazione internazionale che poi ha girato l'operatività del progetto perché solitamente l'ente pubblico tende a stabilire delle linee guida su come comportarsi cioè come i costi del personale i costi di viaggio i costi delle attrezzature cosa fare in caso di leading cioè sono è tutto molto dettagliato in questo modo diciamo uno non dovrebbe soltanto seguire le linee guida e i principi contabili e andare avanti cioè non diciamo nel caso del privato ovviamente c'è la libertà di cioè dovrebbe essere più libero diciamo non dovrebbe essere sotto le spese quindi devono essere rendicontate ovvero tutto deve essere documentato per budget come parlavamo anche ieri puoi usare qualsiasi foglio elettronico non l'importante è che risponde a quelle che sono le tue esigenze quello cioè non c'è un format obbligatorio definito e quindi prevede degli strumenti più possibile diciamo dipende dalla complessità del progetto occorre poi dividere i costi per work page cioè per piano di lavoro e molto spesso quindi i piani di lavoro consistono in nelle macro aree quindi se uno vuole realizzare cinque seminari un piano di lavoro potrebbe coincidere con un seminario e quindi le spese di quel seminario quali l'affitto del locale le hostess chi fare le relazioni e vi sono infatti a volte previste dei dei budget intermedi comunque delle spese intermedi per i vari work page che solitamente corrispondono anche a un orizzonte temporale cioè nel primo mese il secondo mese e poi ci sono anche dei budget che pongono quindi dei limiti percentuali quali il costo del personale non può superare il 30% il costo delle spese generali in questo modo tu rispettando i limiti che il bando ti pone riesci a essere il più possibile coerente con questa cosa alcuni quindi prevedono uno schema di budget che contengono quindi solitamente i costi del personale inteso sia come chi riceve busta paga ma anche contratti di collaborazione i costi di viaggio i costi di alloggio solitamente quando si parla di progetti alla fine i costi sono più o meno sempre gli stessi perché tranne quei costi quando si parla di progetti per la realizzazione di opifici quindi progetti legati all'agricoltura o comunque progetti per imprenditoria e quindi tu devi comprare il bancone il bar la riqualificazione quando parliamo dei nostri progetti si parla sempre di progetti che hanno a che fare col sociale e quindi con attività con anziani bambini enti non profit che quindi svolgono questo tipo di attività anche con corsi di formazione per disoccupati corsi quindi diciamo in quel caso tu paghi il personale che fa le docenze paghi l'aula paghi eventuali diarie per i partecipanti al corso e i docenti questo tipo di spese però all'interno dei corsi di formazione è difficile poi comprare delle attrezzature anche perché tipo nel caso della signora che vuole fare il corso per il cuoco se devono comprare delle attrezzature quelle attrezzature dovrebbero essere utilizzate anche successivamente al progetto quindi lei dovrebbe utilizzarli anche per futuri corsi anche non all'interno dei finanziamenti anche perché immagino che cosa se ne devono fare delle attrezzature se non hanno una visione di lungo periodo e quindi vogliono fare altri corsi pagati ad esempio per fare le attività di cuoco altrimenti quando si tratta di corsi di formazione in maniera si puoi prevedere anche dei laboratori e quindi comprare la materia prima per far fare le icone bizantine quali la carta pesta però sono materiali che vengono utilizzati nel corso del laboratorio e poi comunque finiscono può rimanere qualche cosa ma si tratta comunque di anche perché se tu hai previsto che hai dieci ragazzi e devi comprare il materiale per fare 80 ore vista la bravura del maestro dirti mi serve questo materiale per questo per alunno e quindi proprio nel momento in cui noi stiamo scrivendo un progetto a seconda di quelli che sono che cosa vogliamo fare se vogliamo fare dei seminari se vogliamo fare un'attività ludica o un cineforum o degli eventi culturali e nella previsione tipo quanto costerà il film quanto faccio cioè in questo anche perché all'interno dei progetti può anche essere previsto ad esempio diciamo non può essere previsto il fatto di far pagare perché solitamente il progetto finanzia l'attività quindi non puoi far pagare dei biglietti nel caso del corso per cuoca non puoi far pagare di iscrizione non puoi far cioè anche perché poi non sarebbe comunque rendi contabile perché tu hai preso dei soldi dall'utente finale almeno nella fase progettuale poi quando finisce il progetto quel corso l'ente culturale può farsi pagare la tessera può farsi pagare il corso in questo in questo caso io direi che potremmo fare cinque minuti di pausa che